Via Libera lo stato di emergenza per la viabilità in Sicilia. Da Roma il Consiglio dei Ministri ha stanziato 30 milioni di euro di fondi ANAS per ricostruire il viadotto Imera sulla Palermo-Catania, ceduto in parte lo scorso 10 aprile, ma anche altri 27,4 milioni di euro di fondi della Protezione Civile Nazionale che saranno spesi per affrontare le principali emergenze viarie nella zona delle Madonie, del Corleonese e di altre arterie secondarie dell'isola. Con questo provvedimento dovrebbero iniziare a breve non solo i lavori per l'abbattimento del viadotto che da un mese è chiuso spezzando in due l'isola, ma anche la costruzione della bretella che dovrebbe consentire un breve percorso alternativo ad auto e mezzi pesanti che oggi per andare da Palermo a Catania impiegano quasi 4 ore. L'annuncio dell'approvazione della delibera è stato dato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi al termine del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di Palazzo Chigi era atteso da tempo ed è arrivato a oltre un mese di distanza dal cedimento del pilone sul viadotto Imera, dopo un lungo braccio di ferro con la Regione che chiedeva almeno 200 milioni di euro. Nonostante i tempi non del tutto brevi, si è dichiarato soddisfatto il sottosegretario Davide Faraone. Abbiamo ottenuto un ottimo risultato, ha detto. Il Governo nazionale sta dando risposte concrete all'emergenza viabilità in Sicilia. Dello stesso parere anche l'assessore regionale Maurizio Croce che ha aggiunto avevamo lavorato per ottenere questi fondi, tutto è andato bene.